L'ITIS Marconi di Padova è l'unica scuola veneta ad aver ospitato una tappa del viaggio in Italia della Corte Costituzionale nelle scuole, che dal 2018 ha già toccato 36 istituti scolastici. Un incontro che è stato preparato con attenzione, studenti preparati e attenti che hanno interrogato l'alto magistrato sui temi più scottanti, dai conflitti tra politica e magistratura, all'immigrazione, all'apologia di fascismo. Sono entusiasta di questo giro, è stata un'iniziativa che ho apprezzato tantissimo. Si dice sempre che i ragazzi con il diritto non hanno una grandissima confidenza, invece in questi incontri c'è della curiosità. Sì, un cittadino consapevole dovrebbe avere sempre una infarinatura di diritto, non fosse altro per difendersi dagli altri e dalla collettività. Ma ho avuto quella sensazione di una preparazione forse al di sopra del normale, che non mi aspettavo. Siamo l'unica scuola nel Veneto, per noi questo è un grandissimo onore e abbiamo lavorato due mesi intensamente con l'aiuto dei professori di diritto e lettere per realizzare un progetto significativo e di crescita per i nostri studenti. Infatti il giudice è stato molto sorpreso. Noi siamo molto contenti, il giudice ha fatto tanti complimenti alla scuola, ai professori, agli studenti, perché si vede l'entusiasmo e la partecipazione con la quale hanno risposto positivamente ai nostri stimoli. Incontrare un giudice costituzionale faccia a faccia non è cosa di tutti i giorni. Riservati e schivi per dovere istituzionale, i giudici dell'Alta Corte si pronunciano sulle materie più scottanti della nostra democrazia e, al netto delle consuete polemiche che li vogliono schierati o nominati dai partiti, rappresentano la più alta garanzia in materia di legittimità degli atti e delle leggi dello Stato. Un incontro a 360 gradi che ha interrogato gli studenti sul modello di società sempre attuale, disegnato ormai più di 70 anni fa dalla Carta Costituzionale, riscoprendo l'etica e il valore delle pagine che parlano della dignità umana, troppo spesso calpestata anche attraverso i social network che, è stato detto, rischiano di dare una visione deformata della nostra società dove a prevalere è chi urla più forte. L'essenza della società che il costituente voleva costituire, cioè una società solidaristica.